Buongiorno a tutti ragazzi, come state? Come potrete vedere qua c'è scritto 2024 spoiler, ma mi raccomando non ditelo a nessuno che rimanga un segreto nostro. In questo momento sto scrivendo per un video e ho pensato siccome sto organizzando il 2024 e ci saranno dei progetti veramente grossi e quando dico grossi per chi ha visto il progetto dell'isola di Poveglia, quello in confronto è una passeggiata per bere un caffè. Ovviamente non vi dirò tutto, ma vi dico solamente che questo grande progetto sarà a maggio e durerà un mese, a direi vero più di un mese e quindi saranno più di 30 video uno dietro l'altro. Se è un progetto grande perché mi sposterò, mi sposterò da qua, vi porterò con me ogni giorno in cui io sarò via e quindi voi vivrete ogni singola cosa assieme a me in modo virtuale. Come già vi ho anche annunciato ci saranno anche delle belle collaborazioni, tra cui una molto breve e lo scoprirete a tempo debito. Sappiate che alcuni di questi progetti che sto organizzando si faranno fuori Italia, quindi anche a livello di linea eccetera non so come sarà. Io comunque cercherò sempre di tenervi aggiornati anche nella community, ma non ci pensiamo ora, si parla di maggio quindi non è ancora il momento di ripensarci. Mi sposterò anche molto per l'Italia come già sto facendo per alcuni video, video che usciranno sempre comunque dal 2024 perché mi sto portando avanti. Per ora andiamo avanti a pubblicare i podcast, quindi i classici video come stiamo facendo adesso, come è MTV. Che dire, io per adesso credo di avervi detto anche già troppo, altro che piccolo spoiler. Comunque ragazzi non pensate che io non vi dirò nulla perché come ho fatto per Poveglia poco alla volta vi darò qualche indizio e già un indizio grande ve l'ho dato. A presto, ciao! Ah e ricordate non ditelo a nessuno!